Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Cronaca Retina Speciale. Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica sulla questione delle sagre, dopo che quattro consiglieri comunali di maggioranza, li ricorderemo, diciamo che hanno approntato il nuovo regolamento sagre, feste paesane e rionali, che poi è stato vagliato dalla commissione competente e lunedì dovrebbe arrivare la questione nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Un regolamento che mette dei paletti, come richiesto dalle associazioni di categoria, prima Confesercenti che per prima aveva sollevato la questione e poi con forza varie volte anche da Confcommercio e la loro lotta contro quelle che vengono definite sagre, selvagge, concorrenza sleale dei confronti dei ristoratori. I paletti nella durata, nella forma originaria di questo regolamento non potrà essere più di cinque giorni consecutivi la durata di queste sagre, ci dovrà essere un numero di giorni totali all'anno per tutte le sagre messe insieme, non dovranno essere più di 16 nell'arco di un anno, dovranno essere basate su un prodotto tipico che dovrà essere a chilometro zero e rintracciabile. Tutto questo ha non solo suscitato una polemica politica, ad esempio Matteo Bracciali che era lo sfidante del sindaco Ghinelli, del Partito Democratico ha detto così le frazioni muoiono, ma chiaramente c'è stata la rivolta del mondo delle sagre, del comitato sagre. In rappresentanza abbiamo Fabio Sinatti che è tra gli animatori, in particolare delle sagre che vengono organizzate nella zona di Policiano. Policiano. Allora, che questione è? Davvero fate concorrenza sleale ai ristoranti e ai ristoratori? Questa per me è una bufala che si sono creati i commercianti, non so per quale motivo, perché noi riteniamo che queste iniziative, prima di tutto, hanno un aspetto strettamente sociale, quindi non a caso nel momento in cui viene fatta una sagra, una festa paesana, è l'occasione per potersi ritrovare, per poter dialogare uno con l'altro, che nel mondo di oggi non ci si vede più. Quindi è un'occasione unica, importante per ritrovarsi. Inoltre, ovviamente molte realtà, io faccio presente della nostra realtà, della Polisportiva di Policiano, l'eventuale ricavo, l'eventuale guadagno che ci può essere da una sagra, poi viene ripartito per che cosa? Per l'attività sportiva che ti crei, per le strutture che ti hai lì, che fra l'altro non sono neanche le tue, perché li devi poi, sono della parrocchia, quindi li devi pagare, li devi sostenere e migliorare, perché poi ci richiedono sempre maggiore sicurezza, ci richiedono sempre maggiore tutela. Insomma, tutte queste cose qui, che ovviamente non è che vengono così dal cielo. Una volta anche le società sportive, per andare avanti, avevano l'opportunità di avere degli sponsor, di avere dei contributi da parte del Comune, degli enti. Oggi questi non esistono, esistono in minima parte, quindi si deve un pochino anche adattare e arrangiare. E poi io non vedo il soggetto che partecipa alla sagra, è un soggetto che viene calzoncini corti, con ciabatte, viene per ascoltare un po' di musica, viene per stare proprio insieme. Quello che va al ristorante andrà sempre al ristorante, ma non è che eliminando le sagre il ristorante ci guadagna, ci può guadagnare un 5%, il 10%. Quindi per me questa qui è veramente una cosa assurda e ridicola. Oltretutto hanno messo ancora quei paletti, come dicevi te, per dire delle pietanze a chilometro zero. Cioè, in sostanza, se uno fa una sagra, la sagra della bistecca, faccio l'esempio, deve dare solo la bistecca, perché se fa un primo non è compatibile con la sagra che ti metti in circolazione. Quindi anche questo mi sembra una ridicolezza. Cioè, uno che vuole andare a mangiare, se ci va a mangiare, vuole mangiare un primo, un antipasto, può mangiare anche il dolce. Per quale motivo devi soltanto limitare? Soltanto a quello. E poi deve essere riconducibile tutto. Te dovresti mettere, secondo quello che dicono in questo regolamento, dovresti inserire già nel listino prezzi, nel momento in cui te vai a ordinare, allora sapere se hai fatto le pappardelle, da dove vengono, chi l'ha fatta, il sugo da chi l'ha fatto, eccetera. Cioè, io non so, se va al ristorante, mi sembra che queste cose qui non siano menzionate. Quindi, allora, perché questa disparità, perché questa differenziazione vuoi portare, diciamo, scompiglio? E poi, l'altra cosa che a noi non ci è sembrato veramente corretta, fra le altre cose, per quale motivo? I quartieri della giostra del Saracino, loro sono esenti da tutte queste regolamentazioni. Ed inoltre, un'altra cosa forse molto importante, è quella che poi mi sposto di un chilometro, vado in un altro comune e vedo che questi possono fare le sagre per 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni. Quindi, cioè, voglio dire, per quale motivo deve essere penalizzato solo il Comune di Arezzo? Perché? Perché qualcuno si è alzato una mattina e diceva, vabbè, ho avuto voti da queste associazioni, quindi li devo ricompensare. Non lo so, io gli aspetti politici a questo punto qui mi sembrano ridicoli, perché questo è un aspetto puramente sociale. Se vogliamo eliminare le frazioni, le possiamo eliminare tranquillamente. Chiaramente il Comitato si adopererà affinché questo venga modificato. Ecco, tra l'altro, a proposito di politica, proprio Catiusha Fei di ConfCommercio aveva risposto a Bracciali dicendo che nelle sagre, diciamo, magari alcuni partiti cercano i voti, appunto, i consensi politici, e per questo vengono difesi questi eventi, e da Confesercente è arrivato il plauso per iniziativa del Comune, Confesercente che si è mossa anche col Comune di Cortona contro queste sagre selvagge. Ecco, i commercianti, i ristoratori, hanno spesso detto che, diciamo, tra i motivi di concorrenza sleale c'è anche quello, ad esempio, che le sagre non sono tenute al rispetto di tutta una serie di norme, anche igienico-sanitarie, che invece i ristoratori devono rispettare. Allora, sfido molto spesso i ristoratori ad essere puliti, come sono puliti in occasione di molte sagre. Dopo ci potrà essere, come in tutte le cose, come in tutti anche i ristoranti, penso ci siano quelli che sono particolarmente, diciamo, adeguati a questa situazione, come le sagre che sono anche loro particolarmente, diciamo, preparate. Io vedo che la ASL, quando viene a controllare, controlla, noi una volta abbiamo avuto, perché c'era una ragnatela, ci hanno dato una scadenza per ripristinare un po' certe posizioni. Voglio dire, voglio vedere se questo avviene anche nei ristoranti. Io mi dice uno che a volte applicano questi condizionatori, dice, quello che vediamo nei ristoranti, se le persone vedessero quello che c'è, non andrebbero più a mangiarci. Quindi, ragazzi, stiamo attenti anche su questo, perché veramente è un'affermazione molto grave. Ecco, ti volevo chiedere anche i soldi, cioè il ricavato di queste sagre, a chi va? Nel senso, chi le organizza? Ci guadagna? Cioè è un'attività di lucro? Allora, prima di tutto, ecco, devo dire anche un'altra cosa che me l'ho dimenticato in precedenza. Le sagre fanno muovere una discreta fetta, diciamo, economica, anche da un punto di vista proprio dei servizi, ma soprattutto, diciamo, dei fornitori, perché ovviamente molti soggetti, per acquistare vetrovaliamento, per acquistare, diciamo, a volte anche forme, diciamo, di alimentazione, eccetera, vanno dai ristoratori, vanno dai fornitori qui in loco. E quindi è un guadagno anche per questo. Quindi già si viene a fare, a mancare anche questo, perché ovviamente i ristoratori a volte si utilizzano, per esempio, la carta, ma non come noi che utilizziamo con i fracassi il coccio, però è una forma, diciamo, di pagamento che noi diamo e attiviamo anche delle aziende, in questo caso qui. Ma poi alla fine, se ci fosse anche un ritorno da un punto di vista economico, come ho detto in precedenza, una realtà come la nostra, fanno attività sportiva, diciamo, 360 giorni l'anno, noi, ma l'Olmo Ponte, per esempio, che fa la sagra della bistecca lì a Olmo e manda avanti centinaia di bambini nell'arco dell'anno per fare attività. Insomma, voglio dire, ragazzi, non è che poi, se ci sono quei soggetti o quelle realtà che lo fanno a scopo di luogo, controlliamoli, verifichiamoli. Se ci sono queste, io sono il primo a dire, allora andiamo a controllarli e vediamo se qualcuno si mette in tasca qualcosa. Perché dirlo così in maniera leggera mi sembra una cosa non corretta. non corretta, quindi o sei convinto e sei sicuro che c'è qualcuno che ci guadagna e allora questi devono essere anche presi. Altrimenti, come ho detto prima, molte realtà, noi a volte facciamo la festa d'agosto, diciamo, se non la facciamo pari, quasi manca. Insomma, voglio dire, ma lo facciamo anche per venire incontro alle realtà, agli anziani che a volte non sanno cosa fare nel periodo estivo, alle persone che sono in difficoltà anche da un punto di vista molto economico, perché hanno la possibilità di venire anche nel paese, ascoltare la musica senza pagare nulla. Quindi, voglio dire, queste cose qui o ce le fa il comune direttamente, allora benissimo, il comune si presenta e ci fa l'attività sociale, il comune, noi possiamo anche smettere di fare tutte le sagre possibili. Allora, vedremo cosa accadrà. Ovviamente, annuncia battaglia, è chiaro che poi, come tutte le cose, come hai detto, insomma, è chiaro che per quante sagre sono, questo sono tante, questo effettivamente il numero è veramente consistente, forse sono anche troppe e su questo forse hanno ragione anche i commercianti, quindi quando si parla di un alto numero di eventi, è chiaro che anche per statistica è ovvio che c'è qualcuno che magari fa il furbo e appunto camuffa magari un'attività di lucro per un'altra e quindi su questo sicuramente bisognerà intervenire. Vedremo come questo regolamento poi arriverà in consiglio, quali saranno gli emendamenti perché è stato presentato comunque da una parte di maggioranza, i consiglieri Jacopo Apa, quindi siamo nell'area Forza Italia, poi Giovanni Bonacci, Tiziana Casi, Lega Nord e Francesco Macri, Fratelli d'Italia. Quindi sarà interessante capire la posizione della lista del sindaco, cioè di Ora Ghinelli, dato che tra l'altro l'assessorato e quello di Comanducci comunque è in quota a Ora Ghinelli e quindi sarà interessante capire come Ora Ghinelli, se vorrà, modificherà questa proposta. Voi siete pronti ad arrivare, sarete in consiglio quando va questa cosa? Ci sarai? Se non mi insegni. Beh, ora quello lo vediamo. Però ecco, io sono convinto che ci sarà un ripensamento da parte dell'amministrazione perché altrimenti veramente si mette contro la collettività, ma la collettività è anche più semplice, quella che normalmente vive la quotidianità. Quindi, diciamo, mi sembra che veramente si diano una zappa nei piedi se arrivassero a queste conclusioni, perché danneggerebbero, diciamo, le fasce più deboli, la parte popolare. Allora a quel punto lì si dice, si chiude tutto, si chiude, però io stare sempre molto attento su questi aspetti, perché quando si va a intervenire proprio sulle fasce sociali più deboli è la volta che dopo succede sempre peggio. Quindi, non lo so, io ho un consiglio così molto spassionato, dico, ripensiamoci e vediamo. Che siano, diciamo, controllate, che siano anche selezionate, sono il primo a doverlo fare, però insomma, ecco, guardiamoci un attimino prima di mettere tutte allo stesso livello. Io ringrazio Fabio Sinatti, rappresentanza del Comitato Sagre, grazie per aver seguito questo cronaca speciale a Retina, e torneremo ovviamente a occuparci e seguiremo gli sviluppi di questa vicenda. Buona serata.